Stiamo per prendere la nuova circovalazione di Mirabella in Bacchieri, ecco qua vediamo una rotatoia, vediamo, vedete manca la segnalettica, quando sarebbe stato, soprattutto quando si saranno fottuti, quanto avranno fottuto in questa strada, chi lo sa. Come ha smattato fare questi filmati, viene decisamente lì. In questa strada ci vedrai bene, un mega benzinaio con un mega storm, così la moltiplicità delle macchine in passaggio troveranno qualcosa. Secondo me di questa circovalazione ne avevamo proprio bisogno. Sì, sì. Ecco qua siamo in via Sandro Bertini, stiamo passando vicino al maxiscontro supermercato. Sì, sì.